La regione Abruzzo sostiene con forza la lotta per togliere i trabocchi dalla direttiva Borchestein, non possono essere considerati alla stregua di un qualunque bene, i trabocchi sono rari, un numero limitato, sono una eccezionalità del panorama culturale della nostra regione, della nostra Italia, della nostra costa triatica in particolare e con le altre regioni della costa triatica siamo impegnati per ottenere questo riconoscimento da parte del governo e da parte della Commissione europea e fare in modo che i trabocchi vengano tutelati nella loro specificità.